Siamo davanti all'ospedale del Ceppo a Pistoia, sono al ristorante Gli Artisti con Daniele. Ciao Daniele, buonasera. Siete Daniele, un periodo di crisi del turismo a Pistoia, però vedo che sei con degli ospiti anche internazionali stasera. Sì, i signori vengono dal Belgio e si trovano molto bene qui da noi, ci hanno riempito di complimenti perché una piazza stupenda come questa, il pregio della roba, ci hanno mangiato benissimo, un servizio eccellente, a noi fa molto piacere. Senti Daniele, io so che parli anche le lingue fra l'altro. Sì, noi parliamo in inglese, questo è quello che ho detto ai miei amici, se ti piace di stare con noi, se ti piace un posto e cosa pensi di Pistoia in generale. Allora, io approfitto della tua presenza, se chiedi ai tuoi ospiti se è la prima volta intanto che vengono in Toscana. È la prima volta in Toscana, sono venuti alcune volte in Italia prima, però la prima volta in Toscana, gli piace molto. Ecco, e visto che siamo al ristorante, partiamo da questo, come si sono trovati a tavola? Benissimo. Benissimo, però domandiamola a loro, dai Daniele. Come trovavamo i ristoranti la prima volta in Toscana, quando vengono? Ah sì, la prima volta in Toscana siamo qui per la prima volta, andiamo qui per la prima volta, e oggi siamo tornati. Quindi la città è eccellente, il fischio è eccellente, molto, molto buono, il vino è buono, tutto è bello e anche il vettore. Quindi, è bello. Senti, poi curiamo dopo la traduzione. Certo, certo. Senti, gli vuoi domandare invece come hanno trovato Pistoia? Come hai trovato Pistoia in generale? Hai visitato altri paesi? Sì, abbiamo visitato il centro di città, abbiamo parato il carico in vicino e abbiamo fatto tutto per la città. Abbiamo fatto alcune terrasse in Suon e alcune piante, anche la cultura e i bambini qui qui. È molto bello di essere. Allora, il fatto è che il città è un po' di più, il città è un po' di più. La città è un po' di più. Senti, e gli vogliamo domandare se raccomanderanno Pistoia e la Toscana in Belgio ai loro amici? E il tuo ospite è un imprenditore di sigari? Sì, signore, hai detto che sei il manager da qui, hai lavorato per questa compagnia? Cosa è la tua posizione? Io faccio il prodotto di sviluppo dell'industria di sigaro, per l'SDG, che è il gruppo di tobacca e il gruppo di scandinaviano di tobacca, e faccio il prodotto di sviluppo di sviluppo. Quindi, se trovi e provate un nuovo cigar, potete essere la persona che vorrei essere. Bene, vi ringraziamo, c'è anche la signora e la salutiamo, buonasera signora, vi riaspettiamo a Pistoia, a presto, ringraziamo Daniele. Grazie a voi, ci vediamo a presto.